Sono Laura Antici, vi presento Mozilla Apps, presenze virtuali in educazione. Questa è una presentazione a base dell'applicazione e nel contesto della Mixed Reality. Mozilla Apps è una piattaforma open source di realtà virtuale in fase di sviluppo e di collaudo. Si entra gratuitamente e permette di accedere ad un ambiente tridimensionale con gradi di immersione differenziati in base agli strumenti utilizzati se si usano visori o se si accede semplicemente da browser e PC. Permette di creare ambienti e di scegliere tra quelli a proposti, come vedete. Dopo andremo a vedere dal vivo. Si partecipa con una presenza avatar, in set name and avatar. Gli avatar di The Fall sono semplici robottini che possono essere personalizzati quando si prende la mano con l'ambiente adottando alcune tecniche o uploadando file GLD. Gli ambienti possono essere personalizzati con l'inserimento di oggetti. In questi spazi è possibile riunirsi, discutere e incontrarsi, creare mostre e luoghi paralleli dell'esperienza reale. Mozilla Apps è un interessante progetto da sperimentare in ambito educativo per creare spazi alternativi di esperienza in ambienti digitali. L'occasione della didattica digitale integrata e della didattica a distanza ci dà modo di accorciare le distante e di creare e partecipare ad incontri virtuali sia per socializzare che per apprendere. Unice unisce l'idea del gioco a quello della formazione, facile accedere a Mozilla Apps. Ottimo il modello Summer per interpretare gli effetti negli apprendimenti usando esperienze immersive o di realtà mista. I livelli del Summer Model sono Substitution, Augmentation, Modification e Redefinition. Utilizzare quindi il Summer Model in Progress per favorire l'apprendimento motivato con le tecnologie, per svolgere e presentare i compiti autentici, per ridefinire l'apprendimento in compiti nuovi. Questo modello Summer è utile per progettare e sperimentare in progressione esperienze di apprendimento digitale. L'uso delle tecnologie digitali aiuta lo sviluppo delle esperienze di apprendimento con lo scopo di ottenere livelli più elevati di competenze negli studenti. Cosa si ridefinisce con l'esperienza immersiva? La progettazione nelle mani di docenti e studenti, la gestione di relazioni, simboli e artefatti, la partecipazione in gruppi di interesse, nuovi approcci al problem solving relazionale orientato agli oggetti, la sperimentazione di nuove grammatiche e linguaggi, la motivazione e il coinvolgimento. Ecco, questa è la presentazione statica di inizio. Colleghiamoci ora a Mozilla Hubs, scriviamo nella casella di ricerca di Google Mozilla Hubs e clicchiamo su questo risultato. Come vedete, si carica la pagina, mi chiede a create a room. È meglio forse non installare la desktop app, ma fare solo su create a room. Ok, e adesso un po' lentamente si crea, come vedremo, la room. Aspettiamo un momento, ecco, che sta arrivando. Deve caricare tutti i suoi oggetti e mi dà subito un ambiente e mi chiede di entrare o con uno stand alone VR oppure quindi con wireless VR asset oppure enter room. Noi facciamo entrando da browser, enter room, enter quindi on screen. Ok, qui potete con il click verificare l'audio, qui potete settare il messaggio stereo, il microfono. Il microfono di default è spento, lo lasciamo per il momento spento. E andiamo, non scelgo un'altra scena adesso, la sceglierò dopo, enter now. Ecco, sono entrata nella scena che mi propone di default. Posso andare subito a cambiare la mia scena in choose a scene. E qui ci sono tutte le proposte delle scene messe a disposizione, sono moltissime e bellissime, da Mozilla Apps. Quindi noi entreremo in una, ho pensato a holidays, party 2020. Ecco, anche qui ci mette un attimo per caricarsi. Come potete vedere. E aspettiamo che ha carichi con un po' di calma. Ecco, adesso dovrebbe venire. Ecco, vedete i tempi sono leggermente lunghi. Quindi non il nostro avatar per il momento non si vede perché siamo nella nostra visione soggettiva. Per muovere i primi passi innanzitutto clicchiamo con G, vola, sulla tastiera. E quindi possiamo procedere con le frecce oppure con il tasto W. Con il tasto W più S si può tornare indietro, si può quindi retrocedere, può andare avanti. Con il D, come vedete, ci si sposta a sinistra, con l'A ci si sposta a destra, ripeto, con il W si va avanti. Ecco, queste sono le prime mosse in Mozilla Apps. Ora andiamo a cercare il nostro set name avatar e a scegliere il nostro avatar. Il mio avatar, quello che ho utilizzato, che voglio utilizzare, adesso si caricherà. Voglio utilizzare questo e quindi posso cliccare su Assets oppure andare in Browse Avatar. In Browse Avatar compaiono tutti i miei avatar, quelli che mi sono creata, ma non sono quelli di default. Di default lo fate in questo bottone e voi quindi vi troverete questi piccoli robottini di avatar e ne sceglierete uno che vi piace di più. La personalizzazione dell'avatar è possibile, ma bisogna lavorare all'esterno di Mozilla Apps e poi uploadare il proprio avatar. Vado in My Avatar, scelgo di nuovo questo, più semplice, questo è un po' più complesso e vado in Assets e accetto il mio avatar. Per vedere il mio avatar posso ad esempio andare a fare una foto con la camera qui sopra, camera, come vedete, se si attiva, ecco si è attivata la piccola camera, come vedete e che mi dà la visualizzazione dell'avatar. Se vado nella barra spaziatrice poi posso posso ingrandire anche il... vedete che posso spostare questa... mi avvicino un attimo sempre procedendo con le frecce o con... oppure con W e posso fare esempio la foto cliccando qui ecco mi ha dato la foto ora posso... sempre con la barra spaziatrice, ad esempio eliminare la foto o modificarla e vedete che me l'ha data la foto qui è comparsa. comunque ha qui la foto e la posso ruotare, posso twittarla, oppure posso sempre con la barra spaziatrice ingrandirla questa foto come vedete e a questa sono io e quindi mi sono anche vista in questa dimensione. quindi posso anche se la voglio vedere in grande open link ecco e questa è la... ok e adesso mi posso spostare in vari punti del... come vedete... girando il tasto del mouse... quindi mi vado... come vedete a spostare... ora vediamo come inserire un oggetto... andiamo sul create... la barchetta magica... e possiamo qui scegliere degli oggetti da google poli... da sketchfab... da scenes... da avatars... e giz... noi abbiamo poi una serie di elementi... ad esempio potrei scegliere... ci scegliamo un divano... ad esempio... da mettere sulla scena... ok... adesso si carica il divano... il divano lo posso spostare... ad esempio lo metto qui... vabbè... dopo lo metterò un po' meglio... lo posiziono qui... posso poi... mettere... un... altro oggetto... sempre... utilizzando... la... la bacchetta magica... vediamo... mettiamo una... è il primo che incontriamo... un vaso... magari... questo vaso... inseriamo il vaso... e il vaso lo possiamo posizionare... ad esempio... qui... ok... sempre sugli oggetti... ho diverse operazioni che posso fare... con la barra spaziatrice della tastiera... quindi... eh... posso ingrandire l'oggetto... come vedete... o rimpicciolirlo... a mio piacimento... sempre con la barra spaziatrice... lo posso fissare... così la prossima volta che vengo qui... lo ritrovo... se no... mi... eh... mi scomparirà... all'uscita... e anche il divano... lo pinno... pin... per... appunto... fissarlo nell'ambiente... per evitare... e quindi... che... possa... eventualmente... scomparire... se scrivo... in... nella... barra... eh... che... grigia... che trovate sotto... ad esempio... il mio nome... mettiamo l'antichi... e... ehm... vado... sulla... bacchetta... magica... qui... vedete... che ho creato... quindi una... una scritta... con... il... il mio nome... ecco... una volta che ho allestito... tutto l'ambiente... con... tutte le cose... eh... da allestire... ad esempio... voglio anche... aggiungere... all'ambiente... posso aggiungere... all'ambiente... con la bacchetta magica... volevo solo per farvi vedere... il custom... url... or... file... quindi vado... a prenderlo... eh... però... eh... deve essere creato... in... glb... eh... vado... vabbè... qui me lo dà... vediamo... ecco... questo mi da... l'occhetta... ok... poi... posso andare... eh... ne metto un altro... non era questo... che volevo mettere... eh... prendo il mio link... invece... un mio link... vado... a prendere... un... il mio... dodecaedron... ad esempio... in... vedete... glb... l'estensione... glb... faccio apri... e... vado... in... create... dovrebbe venire... create... dovrebbe venire... il... il mio... dodecaedro... che avevo creato... in questo formato... quindi... si possono... creare... un insieme... di oggetti... dodecaedro... anche... con la barra... spaziatrice... anche questo... mhm... beh... posso aprirlo... in un link... ad esempio... open link... intanto lo pinno... lo lascio lì... pinnato... e poi... eh... come vedete... l'ho pinnato... in modo che stia... eh... facendo... open link... me lo fa vedere... eh... tutto... mi fa vedere... tutto l'oggetto... quando ho finito... di allestire... la mia... ehm... ehm... il mio... ambiente... ecco... eh... posso andare... comunque... eh... posso... eh... sempre... andare... a... prima di... eh... di terminare... vedere cosa... altro... mettere... ehm... e poi... ehm... ehm... con share... ho... il link... che posso copiare... e mandare ai miei amici... anche a me stesso... vedete che ho il copy... o... twittarlo... oppure... posso anche inviare questo numero... del... che è... lab... lab... link... perché... eh... si possano... eh... collegare a questa... eh... stanza... gli utenti... volevo dirvi che vi da anche un codice embed... per embezzare... eh... poi... nella... nei siti... per embezzare... quindi la... l'applicazione... nei siti... ecco... queste sono... le mosse... eh... il link... come... eh... 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 abbiamo... poi indicato... ciao! posso incollare... il link... in... Classroom... esempio... nella nostra classe... eh... eh... virtuale... condividi con il corso... Quindi condivido il link, lo pubblico e da qui gli studenti potranno collegarsi a Mozilla Hubs e entrare nell'ambiente che abbiamo predisposto per loro. Adesso vediamo che si carica. Pianino pianino con i suoi tempi dovrebbe arrivare tra poco, ecco, dovranno cliccare su Enter Room, Enter On Screen, Enter Now. E quindi, come vedete, entrano anche loro e ritrovano tutti gli oggetti, vabbè li abbiamo messo un po' per aria, che abbiamo postato lì. Quindi poi metteremo con molta cura questi oggetti. Li posizioneremo meglio. Comunque qui è un luogo in cui si possono fare delle cose e si può anche conversare in vario modo. Prima di chiudere con questo tutorial iniziale, volevo farvi vedere un ambiente didattico che ho creato. Questo è l'ambiente che ho predisposto con una serie di tutorial. Vedete, ho abilitato la modalità vola con G dalla tastiera e mi posso muovere ora tranquillamente nella stanza che ho creato. Vedete che qualcuno è entrato poi nel mio ambiente, ok, nell'ambiente che ho predisposto. Quindi lo vedo. E posso girare attorno a una serie di tutorial che si accede attraverso il codice QR, i codici QR ai siti e ai tutorial riguardo alle applicazioni che sono state messe a disposizione. Ecco. Ho poi inserito qui nell'entrata, ma è ancora una stanza da completare e allestire, i solidi platonici che avevo costruito in Blender e esportato in GLB. Questa è una composizione, questo è il Dodecaedro. Quindi come vedete si possono creare delle interessanti stanze da mettere a disposizione.